ecco pensate cosa ai volpi plastica con la cambiata cosa può avergli detto lui di risposta toccai, toccai, tocco toccai, tocco toccai, toccai con il tuo Tokai ecco il dramone, il drama di questo uomo che ha lavorato un mese per far perché a lui non piace neanche il Tokai lui piace il prosecco, però la moglie vuole il Tokai quindi ha lavorato 15 giorni per imbottigliare il Tokai per lei e poi una sfiga, è sempre dietro in acquato una sfiga, pensa a te la tragedia, è il dramma, è il dramma quando accardeva la verde, la fine la tristezza, la tristezza io zè in buttelli, io spraghè e di moglie, la max e con sole sentite la gentilezza, proprio la bontà d'animo la capesità di un ipazè un gran figuea io da me scusè l'espella costa clarì per best la xapesera e risos braquet parla in alta la mi question ma dentro a noi non è la soluzione lasciata lì per le tue in te o in te e farà stare le sve fratelli fedeva fedeva e dentro a me arideva acce, acce, le stupeva le e toccai, toccai, viva al toccai fa' che asma che a venire mi vuoi e a venire il toccai lai 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 la 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 Grazie a tutti.